alcuni colori sono davvero belli vero immagino che inconsciamente tu sia d'accordo con me quella che ho appena detto è una forma linguistica che in gergo si chiama truismo dalla parola inglese true che vuol dire vero verità un truismo è una cosa facilmente condivisibile è una verità è qualcosa di ovvio e quindi di innegabile utilizzare dei truismi è una forma molto interessante di comunicazione per ottenere un consenso per condividere qualcosa per abituare il cliente ad essere assertivo e a dirti di sì la cosa interessante è che dopo una frase facilmente condivisibile ad esempio il tempo è un bene prezioso vero la cosa interessante è aggiungere un rafforzativo vero oppure giusto sei d'accordo la teoria senza la pratica non porta lontano dico bene mi interessa negoziare con successo giusto sto usando dei truismi e dopo questi truismi sto mettendo un rafforzativo vero giusto sei d'accordo se alla fine di una frase tu aggiungi un rafforzativo tu aumenti del 15 per cento le probabilità di ottenere un sì non solo ma se contestualmente quando dice rafforzativo annuisci leggermente col viso tu aumenti di un altro 25 per cento le possibilità di ottenere più facilmente un sì 15 più 25 40 per cento in più di possibilità di ottenere un sì questa è una delle tecniche di comunicazione più semplici del mondo giusto e quindi immagino che da stasera ti divertirai a metterla in pratica dico bene è chiaro che non lo puoi fare sempre se no non fai una bella figura tuttavia un bravo negoziatore ogni tre minuti ottiene un sì con un truismo con una frase facilmente condivisibile a cui dopo aggiunge un rafforzativo utilizzare queste frasi non è un dettaglio utilizzare queste frasi significa abituare inconsciamente il nostro interlocutore ad essere d'accordo con noi non penso proprio sia una forma di manipolazione penso invece che sia una forma di comunicazione efficace e a tutti noi piacerebbe comunicare efficacemente sei d'accordo vero sono emanuele maria sacchi buon lavoro